Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, code tra Firenze Sud e il Cisareggiello. Sempre in direzione Roma, rallentamenti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino e tra Baldarno e Arezzo. In direzione Bologna, divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo tra il bivio con la variante di Varico Baccheraia e Aglio. Fino alle 10 del 30 aprile, sempre verso Bologna, rallentamenti tra Arezzo e Baldarno. In Fippi lì per un veicolo fermo al chilometro 28 e 500, code tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze. Sempre verso Firenze, incidente al chilometro 2 e 400 tra Firenze Scandici e Firenze Viadotta all'Indiano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!